quarta corsa in programma daniano premio forte diamante un miglio per quattro anni con sette concorrenti agli ordini dello starter dallo steccato e la luna di se bigi e lettre sm elettrico oggette osperi oggette quality evita waisel ed ebrius in un cial lancio ebrius poi galoppa in un cial lancio anche vita waisel che si ritrae chiusura delle ali con equality dal largo dello schieramento che riesce a sopravanzare quelli all'interno galoppa equality rimane davanti e la luna di se bigi attaccata da eusperi oggette poi elettro sm allo steccato ed elettrico oggette all'esterno chiude evita waisel eusperi oggette sfila a condurre al termine di un quarto iniziale considerevole in 28 8 e la mette sul passo interviene all'esterno elettrico oggette che arriva arrembante ai lati di eusperi oggette i due compagni di paddock hanno percorsi 643 secchi eusperio si oppone ad elettrico che attacca e la luna di se bigi segue da vicino poi elettro sm ed evita waisel che muove all'esterno in seconda pariglia 58 e 6 a metà percorso continua il pressing di elettrico oggetta ai lati di eusperio che sembra aver dato il meglio passa elettrico oggette inseguito da evita waisel si concretizza il match a circa 500 metri dalla conclusione i due seguiti da elettro sm chilometri in 1 13 e 4 elettrico oggette ai tre quarti di miglio ci arriva in 1 e 28 14 e mezzo l'ultimo parziale filato da evita waisel elettrico oggette entra in vantaggio in retta d'arrivo adesso sposta a largo evita waisel che si lancia all'attacco dell'avversario lo coglie in crisi lo va ad impegnare guidata in punta di dita evita waisel raggiunge elettrico oggette in prossimità del palo lo sopravanza ha preso bene le misure manine dolci va a vincere con la porta colori del signor giorgio cortucci luigi flagello i fratelli d'alessandro al training per la figlia di brillantissime player november media di 1 13 e 4 corre alla grande elettrico oggette costantemente all'esterno almeno per 1200 metri poi deve inchinarsi allo spunto dell'avversaria più fresca quindi 6 3 2 l'arrivo probabile ed ufficioso valido anche il terzo posto a contatto di elettra sm per il terzo posto a contatto di il terzo posto a contatto di il terzo posto a contatto di